buongiorno a tutti cari amici benvenuti dal vostro andrea al matematico in questa nuova lezione di matematica in cui andiamo a commentare dei vecchi temi d'esame dell'università di bergamo ma andiamo anche a fare altre esercitazioni separate adesso siamo sulle forme indeterminate dei limiti quindi zero su zero infinito su infinito e più infinito meno infinito allora ovviamente diamo per scontate le dinamiche di risoluzione quindi se volete vedere tutte le dinamiche in maniera più precisa potete acquistare tutto il corso completo sulla matematica in cui ogni argomento viene quindi introdotto in maniera specifica con tutte le classificazioni in questo corso ci li mettiamo a fare soprattutto esercizi allora partiamo dal primo esercizio limite per x che tende a meno infinito di linea di frazione allora il numeratore abbia x elevato alla terza meno x elevato alla seconda meno 2x più e elevato alla meno x tutto fratto la radice quadrata di 2 meno x che moltiplica aperta tonda x alla seconda meno 5 allora se noi quindi andiamo a sostituire diciamo all'interno della nostra x appunto il meno infinito alla fine avremo meno infinito alla terza meno meno infinito alla seconda meno 2 per meno infinito più e elevato alla meno meno infinito quindi sicuramente generiamo un infinito al numeratore quindi anche al numeratore abbiamo una forma indeterminata del tipo più infinito meno infinito e al denominatore anche qui avremo radice quadrata di 2 meno meno infinito ovvero infinito per infinito alla seconda meno 5 quindi un infinito anche al denominatore adesso qui andiamo a andiamo a notare praticamente che quando andiamo a sostituire al posto di meno cioè al posto della x meno infinito qui avremo elevato alla meno meno infinito che farebbe elevato alla più infinito e chiaramente però questo qui sarebbe un infinito che al numeratore diversamente dagli altri è generato da un esponenziale quindi tra tutti questi infiniti generati da potenze cioè tra x alla terza x alla seconda ed x sicuramente vince x elevato alla terza ma tra tutte le potenze e gli esponenziali vince certamente l'infinito di tipo esponenziale qui ad esempio vi ho rappresentato quindi la funzione e alla x contro la funzione x alla terza anche se inizialmente sembra che x alla terza vada più veloce però poi e alla x recupera e va a superare di molto diciamo l'infinito generato da una potenza quindi di conseguenza possiamo dire che di questa frazione al numeratore è come se rimanesse solo l'infinito più forte ovvero e alla meno x sotto è come se avessimo un prodotto tra infiniti quindi 2 meno x in maniera infinita e asintotica meno x quindi rimane la radice di meno x che attenzione non fa meno infinito ma ricordiamo che la radice quadrata supporta solo valori positivi al suo interno però siccome la x sta tendendo a meno infinito qui avremo meno per meno infinito che fa più infinito in sostanza e per meno infinito tutto alla seconda quindi qui è come dire che abbiamo un meno x tutto elevato alla un mezzo per x elevato alla seconda ma scrivere x elevato alla seconda è come dire meno x tutto elevato alla seconda visto che il quadrato rende comunque positiva la quantità quindi se facessimo meno x tutto alla un mezzo per meno x tutto alla seconda teniamo la base meno x e andiamo a sommare gli esponenti quindi un mezzo più due farebbe cinque mezzi ora quindi diciamo che abbiamo diciamo ricondotto tutto ad una frazione in cui al numeratore c'è e alla meno x che poi sarebbe un e alla più infinito in sostanza che genera infinito al denominatore meno x tutto alla cinque mezzi genera anch'esso un infinito quindi anche questa è una forma indeterminata del tipo infinito su infinito e quindi chiaramente il segno finale sarà positivo perché ho più sotto e più sopra però che cosa succede? succede che l'esponenziale batte ancora la potenza e quindi quando abbiamo un infinito in cui il numeratore prevale sul denominatore allora vuol dire che il risultato sarà infinito in sostanza cosa succede se avessimo avuto lo stesso identico esercizio ma anziché avere e alla meno x avessi avuto e alla x al numeratore cosa sarebbe successo? cosa sarebbe cambiato? allora quindi proviamo a fare questo esperimento quindi il limite per x che tende a meno infinito di linea di frazione x alla terza meno x alla seconda meno 2x più e alla x tutto fratto la radice quadrata di 2 meno x che moltiplica x alla seconda meno 5 quindi andando a sostituire praticamente avremmo avuto quindi meno infinito tutto elevato alla terza meno meno infinito tutto elevato alla seconda meno 2 per meno infinito più e elevato alla meno infinito tutto fratto la radice di 2 meno meno infinito ovvero 2 più infinito che moltiplica quindi meno infinito tutto alla seconda che fa più infinito alla seconda meno 5 quindi in sostanza se andiamo a vedere sopra e sotto abbiamo un più infinito meno infinito quindi si genera comunque un infinito al numeratore e un infinito al denominatore quindi è comunque una forma indeterminata ora però notiamo che quando noi andiamo a sostituire quindi l'infinito nelle potenze quindi meno infinito alla terza o meno meno infinito alla seconda comunque si generano degli infiniti quindi dove trovate qui il verde si generano degli infiniti qua dentro ora quando però andiamo a sostituire al posto della x il meno infinito praticamente andremo a fare e elevato alla meno infinito ma e elevato alla meno infinito che poi è 1 su e tutto alla infinito fa 0 quindi pensate alla funzione esponenziale e alla x che quando la x tende a meno infinito questa qui si abbassa al livello dello 0 quindi questa volta attenzione che l'esponenziale è diversamente da prima non posso considerarla nella lotta degli infiniti e di conseguenza devo eliminarla dai giochi eliminandola dai giochi quindi mi resta sostanzialmente la lotta degli infiniti tra questi tre infiniti cioè tra x alla terza, x alla seconda e la x ovviamente qui andremo a prendere l'infinito più forte ovvero in questo caso x alla terza e quindi lasceremo x alla terza al numeratore e poi sotto avremo quindi la radice di meno x perché comunque per x che tende a infinito scrivere meno x o scrivere 2 meno x è la stessa cosa visto che sto sommando una costante ad un numero infinito tutto per chiaramente la stessa cosa vale tra x alla seconda e meno 5 quindi se facciamo x alla seconda meno 5 il meno 5 è semplicemente una costante quindi diremo che per x tendente a infinito x alla seconda meno 5 tende semplicemente ad x alla seconda ora i giochi sono al denominatore esattamente come prima quindi qui è come avere meno x elevato a un mezzo per x elevato alla seconda posso scrivere anche meno x tutto elevato alla seconda tanto il risultato sarà sempre positivo quindi vado a sommare gli esponenti ora vedete che cos'è che troviamo troviamo in sostanza e che è uguale ad x elevato alla terza al numeratore che è quello che sopravvive e sotto meno x elevato alla 5 mezzi in sostanza ora vedete che insomma questo meno lo potrei anche spostare fuori da questa parentesi e quindi in sostanza ora a questo punto in sostanza dobbiamo ricordarci cioè dobbiamo ricordarci una cosa insomma quindi quando prima di tutto separiamo il discorso dal segno dal discorso dalle potenze altrimenti rischiamo di non capirci più nulla qua dentro quindi se noi sopra abbiamo un infinito di ordine 3 e sotto un infinito di ordine 5 mezzi sicuramente l'infinito che prevale è sopra perché è come se io facessi la sottrazione degli infiniti quindi se noi facciamo 3 che è il grado dell'infinito al numeratore meno 5 mezzi ovvero meno 2,5 ci resta 0,5 quindi l'infinito di grado complessivo sarebbe x elevato alla 1 mezzo ora perché ho fatto questo giochetto di segni perché in realtà la x sta tendendo ad infinito ora se scrivessi semplicemente meno x alla 1 mezzo la cosa non reggerebbe perché x alla 1 mezzo è come mettere sotto radice quadrata e siccome sotto la radice quadrata vanno solo numeri positivi ovviamente non avrebbe retto quindi in sostanza ho trovato questo escamotagino quindi sopra praticamente abbiamo x elevato alla terza ora x elevato alla terza è come scrivere meno meno x tutto elevato alla terza sotto abbiamo meno x tutto elevato alla 5 mezzi quindi di conseguenza è come se all'esterno ho lasciato fuori questo meno poi quindi meno x alla terza diviso meno x alla 5 mezzi è come dire meno x elevato alla 1 mezzo ora questa cosa ci sta perché ovviamente sotto la radice quadrata dobbiamo avere un numero positivo ora meno x è sicuramente positivo in quanto la x sta tendendo a meno infinito chiaramente ci rimane un meno di fuori o se no potevate semplicemente dire potevate semplicemente dire quindi x alla terza è un infinito di grado 3 sotto ho un infinito di grado 5 mezzi quindi alla fine vince sopra e quindi il risultato è infinito per stabilire il segno facevate semplicemente il giochetto dei segni quindi se sostituisco meno infinito al numeratore resterebbe meno un numero negativo se invece sostituite sotto vedete che avete radice di meno meno infinito questo sarebbe segno positivo x alla seconda è sicuramente sempre segno positivo quindi al denominatore avevate un più per più che faceva più al numeratore avevate meno e quindi logicamente il segno dell'infinito che rimaneva alla fine era il meno andiamo a vedere quest'altro esercizio quindi il limite per x che tende a meno infinito di linea di frazione al numeratore 2 elevato alla x tutto fratto aperta tonda x alla seconda meno x che moltiplica il logaritmo naturale di 1 meno x per avere questo ed altri esercizi sulla matematica ti consiglio di andare nell'eserciziario in cui troverai tantissimi esercizi riguardanti lo studio di funzioni le derivate, gli integrali l'algebra lineare e le funzioni a due variabili chiaramente per una comprensione più completa di tutti gli argomenti esiste il corso completo di matematica che parte dal ripasso delle equazioni allo studio di funzioni derivate integrali algebra lineare funzioni a due variabili ed infine alcuni test esiste anche in associato il videocorso sui teoremi in cui potete trovare i principali teoremi della matematica in alternativa potete seguire il percorso con i mini corsi in cui appunto all'aspetto teorico sono associati anche gli esercizi pratici dell'eserciziario che partono dai concetti base alle prime equazioni dall'equazione dei primi studi di funzioni derivate integrali funzioni a due variabili algebra lineare e teoremi vi raccomando seguite il canale ci vediamo sempre qui a parlare di matematica sempre col vostro Andrea il matematico Ciao